A Teramo, in vista della commemorazione dei defunti, la TEAM sta mettendo in atto interventi straordinari per garantire l'accesso alla pulizia nei cimiteri. Il cimitero monumentale di Cartecchio è ora completamente fruibile, con padiglioni, cappelle e altri spazi riaperti dopo il lungo restauro eseguito per i danni del sisma del 2016. In occasione della ricorrenza, grazie ad una virtuosa collaborazione e sinergia con TEAM, continuiamo a tenere alto il decoro dei nostri cimiteri, il cimitero di Cartecchio, quindi di Teramo e i frazionali che ne sono 16. Quindi, insomma, un impegno importante per dare il giusto decoro, valore e attenzione anche a tutti i nostri defunti. Anche i cimiteri delle frazioni sono stati oggetto di pulizia e manutenzioni, incluse operazioni di sfalcio dell'erba. Recentemente è stato approvato il progetto esecutivo da 100.000 euro per la ricostruzione del cimitero di Garrano, frazioni di Teramo, al confine con Campi. Questo intervento, finanziato dalla struttura commissariale con oltre 5 milioni di euro destinati ai cimiteri del comune, rappresenta un'esposta attesa dai cittadini della frazione. Si tratta di fondi post-sisma che si affiancano agli oltre 1.900.000 euro investiti in questi anni dall'amministrazione comunale per la realizzazione di nuovi loculi e altri interventi di riqualificazione degli spazi cimiteriali del territorio comunale. Sì, stiamo procedendo in base all'ordinanza 129 del 2022 al risanamento e recupero di una serie di cimiteri frazionali per un importo di circa 5 milioni di euro. Siamo fase di realizzazione delle opere. Come ogni anno in questa circostanza si metteranno a disposizione tutte le risorse per cercare di rendere agevole l'accesso e l'afflusso ai nostri cimiteri. Volevo aggiungere che rispetto ai cimiteri frazionali stiamo provvedendo anche all'assegnazione dei loculi che era un momento sempre molto sentito.